Quest'anno abbiamo dovuto fare una versione light del nostro format, proprio perché le modalità di assunzione in questo periodo post-pandemico sono un po' cambiate. Già dall'anno scorso molti imprenditori si sono dovuti ridurre all'ultimo aumento per l'assunzione del personale, visto proprio questa grande incertezza in cui ci troviamo. Torna anche per quest'anno l'edizione di Summer Job 2021, un'occasione straordinaria che grazie alla collaborazione virtuosa del nostro Informa Giovani con la ConfCommercio danno la possibilità ai giovani di iscriversi all'interno di una piattaforma dalla quale potranno attingere tutti gli imprenditori della città per dare punto lavoro. È uno strumento efficace, utile, già testato, è uno strumento virtuoso che mette in sinergia tutte le forze, in un momento straordinario come questo, di ripartenza nel migliore dei modi. Faccio un plauso per l'occasione alle ragazze di Informa Giovani perché fanno sul tessuto fanese un lavoro straordinario, non solo, mettono in rete tante persone della città, fanno orientamento e tante altre prestazioni e servizi per il loro futuro. Partecipare al Summer Job 2021 è semplicissimo, basta inviarci una mail a informagiovani-comune.fano.pu.it Saremo poi noi a inviarvi un modulo nel quale ci racconterete le vostre esperienze professionali e la posizione per la quale vi state candidando. Una volta verificati i requisiti sarete inseriti all'interno del database a disposizione dei consorzi albergatori e sarete contattati ogni qualvolta si aprirà una nuova posizione lavorativa. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!